Musica Bella ragazzi siamo qua con un nuovo video su Black Ops 2 insieme alla mia ragazza Ciao E nulla siamo qui ragazzi con Black Ops 2 come ho detto prima appunto Perché non voglio portare solamente fortemente sul mio canale Volevo vedere un pochettino magari facendo anche qualche video su giochi diversi E allora abbiamo colto l'occasione di giocare a Black Ops 2 Ovviamente se ve la vedete con il nome di un ragazzo è perché ci hanno prestato l'account Dato che lei comunque non ha Black Ops 2 E nulla ragazzi spero che vi piaccia questa partita è un 1v1 E nulla ragazzi Comunque scrivetemi nei commenti se volete altri giochi del genere O comunque qualche diciamo altri giochi insieme ecco O addirittura altri video di che ne so Che ne so di qualche gioco Fatemi sapere nei commenti Vi ricordo che è uscito lo speciale dei 1000 iscritti ragazzi Per chi se lo fosse perso Vi metterò il link in descrizione Tant'ora ci concentriamo la partita che ci sta distruggendo Comunque smetti di metterti insieme Non usa le armi anche in questo video Non sei bravo con il cacchino Non è senso Mi metto le armi Non mi metto le armi Aspetta Così mi metto? Lo scaracca Vai Ma dove sei? Come sta camperando? Non sto camperando Se sei orbo Non è cosa Certo Uè uè dove sei? Qua Oddio il singhiozzo è avvenuto Eh chissà Che resto Va bene Eh a N non Ah non sta Scusa ragazzi Lei passa in vantaggio Attenzione Dove sei? Eh? Qua Che schifo Ti ammazzo Ti ammazzo Sbomb morta Eh 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 Oddio Oddio stavo per esplodere Ah esplodevi Madonna mi sono sparato Non mi metto anche il tempo di sparare Che schifo Che schifo Stai armare in culo La merda Rcxd in arrivo No No Rcxd secondo me Sono code l'invenzione più bella Ma basta Cioè la devi smettere Ma se le prendo Oh No Mi hai distrutto Ah Che precisione Questo è perché sono ringrazzata con te Giusto Ma che è sto coso? Mio mio No Come? Rica come? Eh giustamente io sbaglio Perché devo cliccare prima il tasto di sinistra Però almeno so dove sei Nyeh eh Hey 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 Ok basta Dove sei Dove sei Ammetti che ti sei spaventato No Perché sapevo che rispondi C'è di massimo Nooo Ok Ma mettere in cura st'arma che stiti Ostras Mi hai scegliato Scegliati Eh forse non ce l'hai L'N94 No non ce l'hai Detto lo so E' fortissimo Ok Ok Mi hai lasciato in one shot Oh scaracchio 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 è forte Che schifo Sopravvissuto Sopravvissuto Ritorno Perché ho st'arma Sopravvissuto 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 Non vediamo niente Perché c'è il cadavere Sopravvissuto 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 ma dove sei? ma dove sei? e' una ghiacciata eh? eh? ma senza di un uomo ma senza di un uomo ma non è morto nooo dai dai no un pesce un pesce un pesce un pesce ma basta ora suona qua ora suona qua ora suona qui ora suona qui aspetti che lo ridico no 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 è bellissimo è bellissimo è bellissimo ma non è vero non è lì non ma l'estima non per ha e ho un mare un pesce ho spagliato ho spagliato come sono morto ok no no cerchio di farlo colcchino con lo sniper vediamo se ci riesco no vabbè uccidimi dai così per vedere le persone ecco appunto no tanto mi ucciderai prima perché te ne mando prima o poi prima o poi no vabbè ma vabbè sto sto sono morto scandalosi vediamo se ci piace no 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 yes dai è bello che ti guardalo non muore vabbè ragazzi per questo video è tutto mi raccomando di iscrivervi al canale lasciate un bel like scrivetemi nei commenti del genere cosa amore cosa amore niente ho salutato ciao ragazzi bella bella